Ma le produzioni, che tengano conto naturalmente del numero di dipendenti, di tutte le cautele del caso per fare lavorare le persone in sicurezza, quindi non solamente i dispositivi di protezione individuale, ma magari anche i tamponi, io condivido assolutamente la filosofia diffusiva dei tamponi o le indagini sierologiche se questa è la prossima frontiera, però ricominciamo a pensare a fare ripartire il Paese. Come dice giustamente il Presidente Berlusconi, non mi parli di Renzi, non mi dica che l'ha detto Renzi, perché veramente questo è il tormento, noi lo diciamo da un mese, quindi io a Renzi dico benvenuto nel club, ma da tempo noi diciamo che se non si predispone fin da ora, non dico una strategia di uscita dal virus, ma una strategia di valorizzazione dei nostri asset industriali che in questo momento sono congelati, non c'è dubbio, il Paese magari esce dal coronavirus, cioè ci salviamo dal coronavirus, ma come dice il Presidente Berlusconi, moriamo di fame, moriamo di fame, questo non ce lo possiamo permettere. La senatrice Bernini mi ha dato l'assit ideale per andare allora dal professor... ... ... ... ... ...